Per decenni le obbligazioni ci hanno aiutato a ridurre i rischi e limitare le perdite dei nostri investimenti in periodi di crisi, offrendoci protezione durante le fasi di calo del mercato azionario. Anche se ci sono stati momenti di cambiamento di regime nei quali i titoli di Stato non hanno avuto questo comportamento di protezione, come per esempio durante le gravi perdite del 2022 che misero in discussione l'efficacia della classica allocazione 60-40 di un portafoglio, le obbligazioni hanno ritrovato valore come rifugio sicuro grazie agli attuali rendimenti elevati. Pensate al BTP di valori italiani che hanno riconosciuto cedole da più del 4% lordo o a quelli della Romania che pagano un 6% a parità di rischio. Ma ci sono momenti nei quali il prezzo delle obbligazioni scende, proprio come sta succedendo in queste settimane, quando invece per dinamiche tecniche dovrebbe salire. Banalmente la banca centrale sta tagliando i tassi di deposito e questo dovrebbe portare ad una diminuzione dei rendimenti obbligazionari e quindi ad un aumento del prezzo delle stesse obbligazioni. Salve a tutti, Marco Casario qui ed in questo video rispondo ad una domanda che mi è stata fatta da un collega della nostra community che è spaventato perché ha visto il suo portafoglio obbligazionario scendere di valore. Quali sono le motivazioni che stanno portando a questa svendita dell'obbligazionario e quanto può ancora continuare questa dinamica? Parleremo di come l'eccessiva offerta di obbligazioni sta influenzando il prezzo e di come il tetto del debito giocherà un ruolo cruciale nei prossimi mesi per l'emissione di nuovi titoli, insieme ovviamente alle paure di rimbalzo dell'inflazione per i rischi legati alle tariffe commerciali sulla Cina e sull'Europa, nonché al meccanismo di convexity edging usato dai grandi fondi di investimento istituzionali. Insomma, se arriverete fino alla fine del video capirete meglio come affrontare questo momento. Vi lascio alla domanda e soprattutto alla risposta. Iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuto il video. Ciao! Andrea mi dice, cosa sta succedendo alle obbligazioni? Perché questa svendita? Non so cosa fare e non capisco le motivazioni. Come vi dico sempre, non è un parametro o una motivazione che fa muovere, in questo caso, un intero asset. Poi l'assetto obbligazionario, ragazzi, l'assetto obbligazionario è l'assetto più vicino all'economia reale, perché è liquidità, le obbligazioni sono denaro, semplicemente denaro con delle scadenze, quindi denaro spostato in avanti. E effettivamente negli ultimi tempi c'è stata veramente una grandissima volatilità nel mercato delle obbligazioni, con una svendita, un sell-off, che sta portando i rendimenti a salire. Sono stati gli Stati Uniti, effettivamente, a cominciare questo movimento, ma come spesso succede, poi il fenomeno piano piano si è ampliato in tutto il mondo. Il Bund tedesco è tornato al 2,3%, il decennale italiano è ritornato al 3,5%, quello americano ha superato il 4,2%. Perché sta succedendo tutto questo? A bruciapello mi vengono in mente 5 motivazioni, ma ce ne saranno sicuramente altre, anzi ti invito a lasciare qui sotto un commento se ho dimenticato qualcosa. Quali sono queste 5 motivazioni che snoccioleremo bene nel video? Troppe obbligazioni sul mercato, quindi c'è troppa offerta e questo sta facendo aumentare i rendimenti. Il ministro del tesoro americano, la Yellen, vuole mantenere i costi degli interessi bassi, quindi sta cercando di limitare artificialmente l'aumento dei rendimenti. C'è il tetto del debito, infatti, che sta agendo e agirà come un freno che ridurrà temporaneamente l'emissione di nuove obbligazioni, quindi l'offerta. Questa cosa potrebbe far scendere entro fine anno e inizio del 2025 i prezzi. E poi ci sono i timori per un riaumento dell'inflazione, soprattutto per i rischi legati alle tariffe commerciali. Infine, l'ho già spiegato ma volentieri questo punto lo rispiego, c'è il meccanismo del convexity hedging che è usato dagli investitori per proteggersi dal rischio dell'aumento dei mutui ipotecari. Però prima di tutto dobbiamo capire come funziona il prezzo di un'obbligazione, no? Allora, esempio pratico. Immaginiamo di comprare un'obbligazione a 100 euro che paga un interesse fisso del 5% anno, ok? Questo 5% è il rendimento di quando acquisti l'obbligazione. Ora, supponiamo che dopo averla comprata il tasso di interesse di mercato salga e quindi le nuove obbligazioni emesse, attenzione a questo passaggio, hanno un rendimento più alto, diciamo al 6%. Questo vuol dire che oggi gli investitori possono comprare obbligazioni che pagano 6 euro su 100 euro investiti rispetto alla vecchia obbligazione che abbiamo comprato noi che pagava 5 euro, il 5%. Oggi che cosa succede quindi? Che se io, Marco, voglio vendere la vecchia obbligazione al 5% sul mercato, beh, troverò acquirenti che sono meno interessati. Perché? Perché possono ottenere obbligazioni con un rendimento più alto se comprano quelle nuove, quelle al 6%. Perciò, se voglio convincere qualcuno a comprare la mia vecchia obbligazione con un rendimento del 5%, devo appassare il prezzo. Quindi, invece di venderla a 100 euro, la devo vendere, per esempio, a 90 euro, in modo tale che il nuovo acquirente ottenga un rendimento effettivo che è vicino al 6% della nuova obbligazione. Quindi, quando i tassi di interesse salgono, le nuove obbligazioni, questo vuol dire, offrono rendimenti migliori e il prezzo delle vecchie deve scendere per attirare acquirenti e mantenere un rendimento che è competitivo. Allo stesso modo, quando i tassi di interesse scendono, le vecchie obbligazioni con rendimenti più alti diventano più preziosi e infatti il loro prezzo sale. Vedete, abbiamo vissuto un lungo periodo in cui i tassi di deposito delle banche centrali, in Europa, in America o un po' in tutto il mondo, sono state molto in alto per molto tempo e questo ha fatto sì che le nuove obbligazioni offrissero rendimenti migliori rispetto a quelle vecchie, rendendo quindi quelle vecchie meno interessanti per gli investitori. Per questo motivo hanno venduto quelle vecchie per cercare nuove opportunità con rendimenti più alti nelle nuove emissioni. Passiamo agli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti, proprio in queste settimane, ha recentemente aumentato il debito, quindi ha emesso nuove obbligazioni per oltre 500 miliardi di dollari, emettendo nuove obbligazioni per ovviamente finanziare le sue spese. Questo è come se, facciamo un esempio, una città decidesse di stampare un sacco di biglietti per un concerto ma all'improvviso ce ne fossero troppi in vendita. Che cosa succede? Che il prezzo di quei biglietti scenderebbe, chi li compra vorrebbe un premio, tra virgolette, il premio che cos'è? Un rendimento più alto, maggiore per il rischio di tenerli. Gli investitori, vedendo che ci sono così tante obbligazioni sul mercato, iniziano a chiedere rendimenti più alti per acquistarli, perché quando c'è molta offerta, beh, c'è meno appetito per l'acquisto, no? Ed è questo che fa salire i rendimenti, anche questo fa salire i rendimenti, ovvero l'interesse che le obbligazioni pagano a chi le acquista. E poi di nuovo ancora la nostra Yellen, il segretario del tesoro americano, il segretario del tesoro ragazzi è un po' come il capo della finanza negli Stati Uniti, no? Che ha dichiarato che vuole mantenere basso il costo degli interessi e che il governo deve idealmente stare sotto ad un 2%. Non so se l'avete vista, ma c'è stata un'intervista su Bloomberg di qualche mese fa, dove la Yellen aveva proprio detto che le prospettive dei tassi di interessi più elevate nel lungo periodo rendono difficile, più difficile contenere il fabbisogno di prestiti degli Stati Uniti. Quindi ha evidenziato l'importanza di aumentare le entrate nei negoziati con i legislatori, in quel caso repubblicani. La Yellen disse, se ve lo ricordate, altrimenti ve lo dico io, abbiamo alzato le previsioni sui tassi di interesse e questo fa la differenza, rende un po' più difficile tenere sotto controllo il deficit e le spese per interessi. La Yellen ha detto che non ha una regola ferrea, ma non vorrebbe vedere andare le spese per interessi oltre al 2%. Questo è strano perché Goldman Sachs ha visto superare di gran lunga il rapporto nella zona di tolleranza e ha previsto che i pagamenti per interessi reali netti in America raggiungeranno il 2,3% entro il 2034. Questo significa che il tesoro americano potrebbe adottare misure per mantenere i rendimenti delle obbligazioni sotto controllo. In che modo? Per esempio rallentando la vendita di nuove obbligazioni per evitare di aumentare di troppo l'offerta. C'è un altro punto, il ruolo che gioca il tetto del debito. Vedete, negli Stati Uniti esiste, c'è una cosa chiamata tetto del debito che è il limite massimo al debito che il governo può accumulare. Quando si raggiunge questo limite il governo non può più emettere nuove obbligazioni, quindi non può più emettere debito finché il tetto non viene alzato. Questo è simile un po' a una, immaginate una carta di credito che raggiunge la massimale e a quel punto non può essere più utilizzata finché non si ripaga una parte del debito. Quando si raggiunge questo tetto il tesoro degli Stati Uniti è costretto a smettere di emettere nuove obbligazioni. In questo modo riduce l'offerta. Questa riduzione che cosa genera secondo voi? Beh, fa diminuire i rendimenti delle obbligazioni visto che ci sono meno obbligazioni sul mercato. Tra dicembre e gennaio sarà obbligatorio per il tesoro diminuire il cosiddetto TGA che è il conto corrente del tesoro perché è troppo in alto e questa è un'altra questione che in realtà potrà aiutare le obbligazioni a risalire un po' di prezzo. Poi timori per l'inflazione che potrebbe rimbalzare, vedete, e per l'economia che potrebbe non essere più forte come abbiamo visto. Quando gli investitori comprano obbligazioni in pratica stanno non facendo altro che prestando soldi in cambio di un rendimento. Se l'inflazione aumenta però il valore reale di quel rendimento si riduce. L'inflazione infatti che cos'è? È il costo, significa che il costo di beni e servizi sale e quindi il potere d'acquisto del denaro che si guadagna dagli interessi delle obbligazioni si riduce. È piuttosto semplice, no? Immaginiamo di comprare un'obbligazione che paga un interesse del 3% anno. Ora, se l'inflazione è molto bassa, diciamo all'1%, vuol dire che il mio 3% mi dà un guadagno reale di 2%, 3-1% che è l'inflazione. Ma se l'inflazione improvvisamente sale al 4%, il mio 3% non copre neanche l'aumento del costo della vita, quindi fondamentalmente sto perdendo potere d'acquisto ogni anno. In questo momento storico, negli Stati Uniti, gli investitori stanno temendo che l'inflazione possa risalire e quindi rendere i loro investimenti meno redditizi in obbligazioni. Per questo motivo potrebbero in questo momento stare a vendere queste obbligazioni prima che perdano ancora più valore a causa dell'aumento, se l'aumento si verificherà. C'è un'altra questione legata alle tariffe commerciali, ai dazzi, alla guerra commerciale che si sta combattendo tra l'America, la Cina, ma direi a livello globale e se dovesse vincere Trump e diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump ha già promesso un aumento delle tariffe del 25%, no, scusate, del 60% per la Cina e del 10% per tutti gli altri paesi. Queste sono politiche protezionistiche, appunto, i dazzi doganali, no? Significa che un paese impone costi aggiuntivi sui beni importati per proteggere le aziende nazionali. In America queste politiche vengono spesso attuate per cercare di ridurre la concorrenza straniera e spingere i consumatori ad acquistare prodotti americani, ma le tariffe hanno effetti economici complessi, possono per esempio aumentare i prezzi dei beni importati e quindi l'inflazione. Perciò, se dovesse verificarsi questo, gli investitori cominciano ad essere preoccupati che questo possa portare ad un aumento dei prezzi, dell'inflazione, prezzi alla produzione e prezzi al consumo e quindi a degli aumenti nei tassi di interesse. Tassi di interesse più alti rendono le nuove obbligazioni di nuovo più attraenti, ve lo ricordate, ve lo ho spiegato prima. Di conseguenza, le vecchie obbligazioni con tassi di interesse più bassi sono meno desiderabili e vengono vendute. Questa è una questione molto importante, ancora più importante in questo momento, perché sembra che Trump sia in vantaggio rispetto alla Harris, cosa che qualche mese fa era completamente ribaltata. Poi, ultimo meccanismo, quello del convexity hedging, la protezione della convessità in italiano. Come funziona? Quando i tassi di interesse sui mutui aumentano, adesso vi spiego che cosa centra i tassi di interesse sui mutui, gli investitori che comprano titoli di Stato, beh, diventano più cauti e questo spinge i rendimenti a salire. Perché? Allora, immagina di avere un mutuo a tasso fisso. Se i tassi di interesse salgono, anche se tu hai il mutuo a un tasso bloccato, ci vorrà più tempo per ripagarlo, perché i pagamenti futuri sono meno preziosi rispetto a prima. Questo rende il mutuo un debito, questo rende il mutuo e il debito che hai che dura più di più nel tempo e quindi per gli investitori che comprano obbligazioni legate ai mutui e in America ne comprano tanti, diventa più rischioso tenerle in portafoglio e in questo momento i mutui e le ipoteche, quindi gli interessi sui mutui, in America sono aumentati sia per i 15 anni che per i 30 anni. Quindi gli investitori che non amano avere troppo rischio e incertezza nel portafoglio, che cosa fanno? Per proteggersi da questa situazione, quindi per coprirsi da quel rischio, questo vuol dire hedging, vendono altre obbligazioni che non sono legate ai mutui. Per esempio i titoli di Stato, i treasury, no? E che tendono di solito anzi a muoversi proprio in maniera opposta. Vendendo questi titoli cercano di compensare le perdite potenziali dovuto al fatto che i bond legati ai mutui adesso hanno durata maggiore. Questo processo di vendere altri titoli per proteggersi si chiama convexity hedging. E cosa significa tutto questo per il mercato? Un sell-off massiccio porta i rendimenti delle obbligazioni a livelli più alti, come è accaduto con i titoli di Stato a 10 anni in America, che hanno raggiunto di nuovo il 4,25%. E questo è un effetto a catena, perché vuol dire più costo per prendere prestiti. I tassi di interesse sono legati ai rendimenti delle obbligazioni. Un aumento dei rendimenti significa che le aziende e i privati devono pagare di più per ottenere un prestito. Questo è valido anche per il governo italiano, dell'Europa e il governo degli Stati Uniti. Gli investimenti alternative sono meno attraenti, l'altra causa, no? Se le obbligazioni offrono rendimenti più alti, gli investitori potrebbero preferire rispetto ad altri investimenti più rischiosi, come per esempio le azioni, potrebbero preferire mettere i loro soldi sulle obbligazioni. Ecco, spero di aver fatto una fotografia in qualche minuto, ho cercato di essere il più veloce possibile, ma per tutti quelli che si stanno chiedendo e si chiederanno in futuro, perché le obbligazioni scendono? Perché c'è questo sell-off? Perché c'è questa svendita? Io ho citato 5 punti, ce ne sono sicuramente degli altri, ma adesso avete una fotografia un po' più chiara che potete usare ogni qualvolta siete in balia di quello che accade nell'asset obbligazionario. Grazie. Grazie.